Il Partito Democratico si prepara alla competizione elettorale del prossimo 30 aprile per eleggere attraverso le primarie il nuovo segretario e candidato alla carica di Premier. Nella serata di lunedì alle 21 il termine ultimo per la presentazione delle liste a sostegno dei tre candidati, e cioè il segretario uscente Matteo Renzi, il ministro della giustizia Andrea Orlando e il governatore della Puglia Michele Emiliano. Nella BAT saranno 5 le liste a supporto dei tre candidati, una a testa rispettivamente per Orlando e Renzi, mentre tre saranno quelle per Emiliano, due i sindaci capilista, uno per Emiliano ed uno per Orlando rispettivamente con Francesco Spina di Biceglia, Medeo Bottaro di Trani, due i consiglieri regionali con Filippo Caracciolo per il governatore di Puglia e Ruggero Mennea per l'ex segretario. A chiudere il quintetto ci sarà anche il commercialista andriese Antonio Griner.